Nell'ordine Perché i maestri immateriali parlano nell'ordine di spirito, di sentire, di anima e di corpo fisico? Commento Perché lo spirito, per ampliare il suo sentire che è coscienza, produce degli effetti che si ripercuotano nella materia del corpo mentale e del corpo astrale. Questi effetti a loro volta inducono modifiche nella costituzione dell'anima che è la personalità e infine nel corpo fisico. Tali modifiche non accadono casualmente ma, per legge divina, costruiscono sempre di più il meglio della realtà.